salve a tutti allora io mi chiamo andrea penna per quelli che non mi conoscono sono un medico mi sono laureato qui all'università di torino e un po per tendenze mie personali eccetera prima di laurearmi ho intrapreso anche tantissime altre strade diciamo di studi politica un po di tutto e qui a torino sapete che città magica e quindi ho frequentato anche per diverso tempo anche dei centri di ricerca di fenomeni paracentifici per cui ho fatto dei corsi di ipnosi dei corsi di telepatia e tutta questa cosa qui mentre studiavo medicina mi ha permesso in un certo senso di osservare il mondo e soprattutto osservare i pazienti che venivano da me in studio in in modi diversi cioè con tante faccettature diverse oltre all'università gli studi per me che sono stati anche fondamentali nella mia nel mio sviluppo come come medico è stato poi soprattutto l'agopuntura l'agopuntura mi ha aiutato a vedere il mondo spezzato in due parti l'agopuntura sapete che si basa su questa filosofia del del tao quindi il concetto del dello ying e dello yang sono due simboli fondamentali che rappresentano la forza maschile e la forza femminile ma rappresentano anche come noi possiamo suddividere l'intero mondo c'è tutto il mondo io mi sono reso conto che lo possiamo suddividere secondo le due formule lo stesso confucio aveva lavorato su questo campo per cui dava milioni di esempi su questo concetto dello ying dello ying immaginate il concetto banale di una di un vaso che cos'è che rende caratterizzante un vaso rispetto a una pietra normale e il vuoto che lui contiene quindi la struttura esterna del vaso e lo ying il vuoto che lui contiene e lo yang ma è lo yang che caratterizza lo ying del vaso ma allo tempo stesso se il vaso non avesse le pareti e avesse soltanto il vuoto non potrebbe esistere questi sono miliardi di esempi quindi che ne so lui diceva il lato in ombra e il lato e il sole di una montagna di una collina l'aspetto in luce l'aspetto in ombra il caldo il freddo il giorno la notte e via di questo passo quindi lui insieme a tutti i suoi discepoli avevano come suddiviso classificato tutto il mondo secondo lo ying o yang la stessa strego anch'io lavorando ragionando eccetera eccetera ovviamente sono nato quasi 3000 anni dopo di lui ho iniziato ad applicare questo tipo di filosofia su tantissimi altri aspetti da ragazzo ovviamente studiando tutte queste cose mi ero reso conto che c'era un un elemento fondamentale che era il famoso concetto della fisica e metafisica adesso ovviamente voi non vedrete niente ma non importa fidatevi fisica e metafisica da ragazzo non riuscivo a capire però vedevo che c'erano sempre delle polemiche terribili quindi chi era estremamente fautore del concetto della fisica chi era estremamente fautore del concetto della metafisica se noi andiamo a prendere i filosofi grechi c'è soprattutto aristotele che quello che ha affrontato meglio e ha cercato di affrontare meglio questo argomento lui diceva che tutto ciò che è fisico c'è la fisica lo studio della fisica e lo studio di tutto ciò che puoi indicare con un dito e qui ritorniamo di nuovo lo ying lo yang cioè cos'è che noi possiamo indicare con un dito noi possiamo indicare con un dito solo ciò che è oggettivo ciò che è visibile e percepibile attraverso i cinque sensi quindi tutto ciò che noi possiamo udire ascoltare assaggiare toccare noi quello è la fisica c'è l'aspetto oggettivo delle cose realtà però poi aristotele si era anche reso conto che ogni elemento oggettivo contiene quello che lui chiamava la verità interiore cioè ciò che caratterizzava poi questo elemento noi potremmo chiamarla oggigiorno con la cultura nostra l'informazione intrinseca che un oggetto contiene quello non era più un qualcosa che poteva essere indicato con un dito ma poteva essere solamente percepito intuito pensato per cui lui la chiamò metafisica cioè un qualcosa che andava al di là del concetto fisico dove iniziate a comprendere purtroppo cos'è successo che in molte occasioni noi ci siamo trovati in due schiere di discussioni atroce no è più importante la metafisica o è più importante la fisica io un bel momento ho iniziato a ragionare da taoista e giustamente mi sono arrivato con la conclusione che la fisica è il rapporto con lo yin e la metafisica e il rapporto con lo yang quale dei due più importante in realtà non sono uno più importante dell'altro sono praticamente la stessa identica cosa dove lo yin rappresenta le cose oggettive e la materia lo yang che cosa rappresenta rappresenta il concetto di energia la fisica moderna il concetto di energia lo confonde anche col concetto di informazione quindi ogni molecola contiene l'informazione di ciò che è ok che anche il principio della dell'omeopatia ossia noi mettiamo una sostanza all'interno di un solvente la scuotiamo molecola e solvente togliamo la molecola dentro il solvente rimane l'informazione della molecola che è passata attraverso essa ok quello il principio dell'omeopatia quindi vuol dire che c'è un aspetto oggettivo e c'è l'aspetto informativo dell'oggetto quindi la metafisica cosa diventa diventa un qualcosa che non è più toccabile ma è percepibile io un bel momento lavorando poi come come medico quindi osservando tutte le persone che arrivavano dentro di me ma chiunque abbia lavorato nel campo medico sa che molte persone ma noi stessi anche nella nostra percezione personale noi abbiamo dei punti fermi oggettivi effettivamente che guidano la nostra vita ma ci sono anche molti elementi che non sono dei punti fermi ma sono delle percezioni quindi io nel tempo ho iniziato a farmi la domanda come medico ma quando una persona mi parla di un concetto oggettivo o quando una persona mi parla di un concetto di percezione dove siamo di cosa lui sta parlando quindi ho iniziato a comprendere che nel nostro nella nostra struttura caratteriale o comportamentale grazie anche nella nostra struttura caratteriale ci sono due elementi ossia che il nostro cervello contiene sia l'aspetto oggettivo cioè solido che un aspetto metafisico cioè noi in realtà conteniamo entrambi gli elementi perché giustamente sempre il principio dello yin e dello yin e ho iniziato a rendermi conto che dietro questi due simboli fisica e metafisica piano piano andando sapete che io lavoro molto nel rapporto ed è quello che probabilmente mi ha un po aiutato da questa arrivare la al tema di questa conferenza al rapporto tra le malattie che noi sviluppiamo e la struttura sociale da cui deriviamo la struttura familiare da cui deriviamo quindi dimmi di quale malattia soffri io posso parlare di te e posso parlare dei tuoi genitori e dei quattro nonni perché se tu hai quella malattia derivi da quello è un calcolo matematico parlami della struttura familiare da cui derivi io ti posso dire a che cosa sarai predisposto perché è un sistema di compensazione è un sistema di istruzione è un concetto di riflessi condizionati a base a ciò che tu hai vissuto ma non solo ciò che tu hai vissuto ma in base anche a quello che hanno vissuto i tuoi antenati e qui è entrato in gioco la mia interpretazione perché ho iniziato a notare che quando la persona mi parlava degli aspetti oggettivi della vita mi sono reso conto che loro in realtà mi stavano descrivendo il rapporto emotivo che loro avevano con i loro genitori facciamo un esempio a me piace non piace lavorare in realtà quando una persona descrive il suo rapporto che lui ha con il lavoro sta parlando di suo padre ok quindi magari tu chiedi una persona come il rapporto tra te e tuo padre stupendo e col lavoro guardi uno schifo una cosa terribile una noia ci vado perché ci devo andare ma forse per me non ci andrei personaggi terribili il mobbing cioè mi pagano male guardi non me ne frega assolutamente niente lì sta parlando di suo padre ok perché il mondo fisico ok adesso state non guardate questo aspetto perché stiamo parlando del lavoro il rapporto col lavoro il rapporto col padre quando una persona ti descrive la vita familiare che oggettiva non è metafisica e fisica e concreta in quel momento sta parlando di sua madre quindi magari lui per morale per cultura gli chiedi ma com'è il rapporto con tua madre a uno splendore mia madre una santa donna e tu gli vai a chiedere com'è la sua vita familiare questo qua dice guardi una noia non vedo l'ora di uscire ogni tanto bisogna uscire prendere un po' d'aria ok i figli non me ne parli sono fonte di problemi non il coniuge par carità vi è chiaro in realtà lì sta parlando di sua madre quindi cosa vuol dire che quando noi parliamo di tutto ciò che è fisico come direbbe aristotele tutto ciò che io posso indicare con un dito il rapporto emotivo tra noi e il mondo oggettivo deriva da una struttura emotiva del rapporto tra noi e i nostri genitori quindi le persone che sono estremamente strutturate o schierate verso un aspetto o no della vita in realtà stanno manifestando una situazione di disagio emotivo nei confronti di uno dei due genitori o di entrambi i genitori proprio in questi giorni che insomma è l'argomento che tutti stiamo un po' combattendo il problema dell'inquinamento del surriscaldamento globale eccetera eccetera proprio su una su una rivista c'erano queste interviste anche di questa ragazzina svedese e c'era poi il commento di questa di una giornalista che aveva poi riempito insomma l'articolo ed era carino perché questa giornalista nella sua semplicità era involontariamente arrivata alla mia stessa conclusione e questa giornalista alla fine dell'articolo scrive una cosa che tutti abbiamo sempre notato è che le persone che non sono sensibili al problema dell'inquinamento della terra cioè come dire che quasi non difendono la terra ma sono dei negativisti cioè che negano il problema dello surriscaldamento della terra negano il problema dell'inquinamento come dire ci sono sono fenomeni che sono sempre esistiti e conclude l'articolo dicendo combinazione la stragrande maggioranza di queste persone sono dei misogeni e voi direte cosa vuol dire misogini misogini vuol dire che sono delle persone che sono sempre arrabbiati col mondo femminile e che cos'è la terra rappresenta il padre o la madre la madre quindi cosa vuol dire che nel momento in cui io sono attento e accudisco l'ambiente che sta intorno a me quello è il rapporto con mia madre vuol dire che io sono stato un figlio onorevole nei confronti della madre e c'era un bel rapporto tra me e mia madre se io sono il figlio che tutto sommato non vedeva sua madre non vedo neanche il problema della terra non vedo queste cose qua per cui dal mio punto di vista non esistono le nego iniziate a vedere questo aspetto ok quindi quando noi parliamo della fisica noi stiamo parlando del rapporto tra noi e i nostri genitori perché è un aspetto concreto perché io bambino vado lì e tocco mio padre tocco mia madre li sento li vedo li posso anche assaggiare che ne so il sudore eccetera li respiro lo iniziate a comprendere e questo è facilmente intuibile lo vi rendete conto l'aspetto invece metafisico ma possiamo anche dire teologico religioso qui giustamente entriamo in un campo diverso perché non è più un campo oggettivo ma diventa un campo percettivo da diversi anni io iniziavo ovviamente catalogavo quindi raccoglievo i dati mi scrivevo mi prendevo i miei poi la sera mi mettevo lì facevo le mie meditazioni un bel giorno ho iniziato a comprendere che molte volte sono delle intuizioni no è l'intuizione poi va avanti iniziato a rendermi conto che le persone quando mi parlavano della metafisica cioè di ciò che il percepire o mi parlavano addirittura della teologia c'è il rapporto col mondo religioso c'è la religione mi resi conto che questi personaggi involontariamente ma molte volte allora insaputa parlavano di antenati ok per cui come possiamo dire adesso per parlare anche che quando noi parliamo del concetto di dio dell'esistenza di dio quando noi parliamo del concetto della forza di questa forza cosmica che governa tutto il sistema in realtà due volte su tre noi e quindi tutti i pazienti che venivano in studio da me non parlavano di dio perché nel nostro immaginario non non c'è ma praticamente fate conto che questa è mia madre e nostra madre in realtà quando noi parliamo di dio tendenzialmente parliamo del padre di nostra madre ma non parliamo ciò che noi proviamo verso di lui ma stiamo parlando senza saperlo di cosa nostra madre pensava di lui quindi se per mia madre suo padre era assente per noi dio non esiste o se esiste di noi non gliene frega niente se il padre di mia madre era un uomo aggressivo voi descriverete dio come punitivo devi stare attento perché giustamente la vita ti punisce iniziate a vedervi se voi andate a casa iniziate a costruire l'immaginario voi vedrete che piano piano lo trovate cioè che molte immagini che voi avete di questo misticismo ti arriva da questa immagine che non è ciò che io penso di mio nonno ma è ciò che io percepisco lo capite la metafisica non è un'esperienza che io ho avuto direttamente col nonno ma è un'esperienza che io ho vissuto indirettamente attraverso mia madre per arrivare mio nonno e quindi è una percezione non è una cosa che puoi toccare col dito iniziate a vederla ok dall'altra parte tutto ciò quindi questa è l'immagine di dio se noi andiamo invece nel concetto di religione o nel concetto di istituzione religiosa noi in realtà stiamo parlando della madre di nostra madre madre chiesa però anche qui non è un rapporto tra me e la nonna ma è un rapporto indiretto tra me mia madre poi attraverso mia madre e mia nonna e quindi è una percezione diventa metafisica ho iniziato a vedere è una percezione molto particolare ci ho messo un po' a arrivarci ma poi ci sono arrivato quindi più noi andiamo indietro nel tempo più si perde l'oggettività entriamo in uno stato di percezioni emotive queste percezioni emotive sono la nostra quella che noi indichiamo come metafisica ok quindi quando noi diciamo io credo io non credo in tutto ciò vuol dire che noi qui ci sono dei problemi e abbiamo fatto una barriera immaginate questi personaggi che ti dicono io credo solo in ciò che vedo credo e solo in ciò che tocco io come medico li guardo e dico so già dove il blocco se devo fargli fare una costellazione o una mimesi so già che personaggi devo mettere nel sul palco lo capite? perché lui nega questa roba qua quindi vuol dire che da qui indietro ci sono stati dei conflitti molto potenti vi è chiaro? quindi non è discutere di Dio discutere di un'istituzione religiosa ma il fatto che io mi permetto o non mi permetto l'invadere dentro di me il percepire l'assaporare il nutrirmi di quelle percezioni le nego lo iniziate a vedere ok e dall'altra parte lo stesso personaggio che ti vieta cioè ti dice tutto ciò che è scienza, tutto ciò che è concreto è negativo e io credo solo ed esclusivamente in tutto ciò che è iperpercettivo ci sono questi personaggi che sono estremisti esiste solo la magia, esiste solo l'energia e esiste solo la materia ok, li vedete questi due personaggi se però noi qui dietro mettiamo il concetto del Tao cioè dello Ying e dello Yang diventano giustamente delle discussioni assurde perché in realtà esistono entrambi tu dici qual è più importante? per l'equilibrio mio di persona in realtà sono importanti entrambi sia la figura di entrambi i miei genitori e sia la figura di tutti e quattro i nonni perché altrimenti io ho un disequilibrio o a livello della fisica o a livello della percezione di ciò che è oggettivo o ho un disequilibrio nella percezione di ciò che è metafisico e quindi il mio rapporto con tutto ciò che sta intorno a me inizia a diventare difficile lo iniziate a comprendere perché voi provate a immaginare il concetto di empatia avere empatia, no? col proprio coniuge, con la persona che ami o avere empatia con i propri figli come fai ad avere empatia con chi hai davanti se tu tutta questa roba qua la neghi cioè neghi la metafisica praticamente vuol dire che noi saremo dei personaggi che non comunicheremo mai empaticamente con l'altro perché noi neghiamo la validità di quei messaggi quindi tutto ciò che noi percepiremo della persona che abbiamo di fronte lo neghiamo ma negheremo anche tutto ciò che percepiamo noi come personaggi iniziate a comprendere quando noi facciamo degli esercizi sul concetto dello stato di coscienza imparate, ah facciamo un corso per aumentare il nostro stato di coscienza che cos'è lo stato di coscienza? io inizio a rendermi conto che lo stato di coscienza è guardare tutto questo e permettergli di esistere in realtà io non posso avere più o meno coscienza io in realtà ho sempre coscienza poi posso andarci d'accordo o non d'accordo con la coscienza ci sono tantissimi filosofi che hanno provato a fare un altro tipo di ragionamento che più o meno non ci allontaniamo poi molto da questa roba qua ma fino a qualche anno fa insomma si discuteva ancora tanto la distinzione tra scienza e etica siamo di nuovo concreto e metafisico iniziate a vedere tutto il mondo viene diviso così tutta la nostra cultura divisa così quando noi ci scriviamo decisamente da un lato all'altro è perché uno dei due genitori l'abbiamo fatto fuori una delle due famiglie l'abbiamo enucleata quindi noi automaticamente o siamo iper etici o siamo iper scienziati concreti oggettivi vi è chiaro? iniziate a vedervi truc truc questa è l'oggettività ciò che tu indichi con un dito questa è la percezione quindi venite da me e mi chiedete dottore che cos'è l'etica? allora biologicamente io ho compreso che l'etica che è il concetto del giudicare il bene e il male il giusto e lo sbagliato è ciò che noi da bambini abbiamo diciamo analizzato nel rapporto con i nostri genitori e con i nostri parenti ok? qual è l'etica? tutti i bambini tutti noi viviamo in funzione della madre quindi tutti i bambini cosa fanno? mettono in paragone tra di loro la stato di salute della madre con il rapporto col padre i fratelli e i parenti e quindi lui stabilisce buono, no buono quindi lui vede che suo fratello quando è discolo la mamma soffre quindi lui dice eticamente quel comportamento il mio fratello è sbagliato e lui rimarrà lì tutti tutta la vita lui vede il padre che si arrabbia dice il padre padre che si arrabbia no buono quindi lui vorrebbe magari da adulto come maschio urlare dietro a sua moglie ma non può farlo perché sennò eticamente lui va in crisi ok? sono tutta una serie di percezioni iniziate a vederle ok? se io non ho un rapporto corretto con tutte queste percezioni col mondo percettivo come dicevamo prima io non riesco mai più di tanto a entrare dentro quello stato d'animo ho notato che ho tutta una schiera di pazienti che quando io li metto davanti alla loro problematica loro immediatamente gli scappa la lacrima iniziano a darmi tutta una serie di informazioni che confermano quello che io l'ho detto e cambiano immediatamente espressione del viso questo cosa vuol dire? che loro sono molto empatici con ciò che hanno dentro poi non avevano intuito da soli e quindi io gli ho dato il là però loro empaticamente sono partiti subito mentre invece ho tutta una schiera di persone che per quanto tu cerchi di parlarli di farli ragionare di gli fai degli esempi dice guardi proviamo ancora provi a guardare il problema di qui e loro guardi si sposti proviamo a guardare loro fondamentalmente negano perché non riescono a entrare empaticamente in contatto con quello che hanno dentro ok? la difficoltà di arrivare nel contatto empatico facciamo ancora un'altra immagine voi immaginate quindi che questo sono io una generazione tra me e i miei genitori mettiamo che c'è un problema però c'era un problema anche tra i miei genitori e i loro genitori poi anche tra i miei nonni e i loro genitori tra i miei bisnonni e i loro genitori io alla fine ho la somma algebrica quindi uno due tre quattro quattro blocchi questi personaggi siccome negano tutto quello che c'è prima perché sono in conflitto attivo questi hanno una 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 bassa empatia sono quelli che quando li metti nel fare la costellazione metti a fare le mimesi io ringrazio il cielo di aver scoperto queste tecniche perché mi stanno aiutando a capire tutta questa roba qua vengono fuori i conflitti molto antichi e man mano noi andiamo ad affrontare i conflitti molto antichi man mano loro diventano sempre più empatici per cui alla fine questi mi guardano scoppiano a piangere dicono c'è ragione dottore no anche proprio oggi mi è capitato una persona abbiamo iniziato a discutere 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 alla fine sono riuscito a convincerla a dire una determinata frase nei confronti della madre di suo padre come lei dice ma tanto dottore non ci credo dire quella roba lì e beh tu dillo lo stesso lui lei come ha detto questa frase ma tempo ma neanche un minuto ha iniziato a raccontarmi tutta una serie di informazioni che lei aveva da bambina su questa donna dice dottore adesso è venuta in mente e ha iniziato a raccontare ok dove io insistevo guarda che tra tua nonna la mamma di tuo papà e la mamma di tua mamma non c'è differenza lei continua a dirmi no 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 tu sei una femmina giustamente non c'è tutta questa differenza tra te e la mamma di tuo padre perché siete due femmine siete due madri no 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 poi un bel momento questo ha iniziato ad arrivare e questa persona mi è arrivata a dire ha ragione dottore perché ha iniziato a raccontarmi tutta una serie di problematiche di conflittualità anche a sfondo sessuale tra la nonna e i fratelli di sua madre con gli zii che guarda caso lei l'aveva rivissuto uguale e guarda caso stava succedendo anche ai suoi figli non ho iniziato a capire in realtà erano tre generazioni dove si ripeteva pedestremente sempre lo stesso problema ma lei fino a quel momento lì che io l'ho fatto dire questa famosa frase guardando la madre di suo padre quindi immaginate che qui invece che la madre ci fosse stata vostra suo padre e quindi lei guardando la madre di suo padre gli sono riuscito a fargli dire ora finalmente capisco quanto hai sofferto della tua infanzia quindi una frase banalissima nel momento in cui lei ha detto quella frase ha iniziato a vedere la similitudine che c'era tra lei questa donna e purtroppo tra lei e la sua sorella che aveva subito anche lei delle attenzioni particolari e che purtroppo la figlia iniziava a dire mamma guarda che l'ho iniziata a comprendere però lei fino a che io non le ho fatto dire quella frase lei negava il problema si è stati un'ora dove lei negava assolutamente dice ma io con queste persone qua non c'ho niente a che vedere cioè lei aveva tirato una riga come dire questa roba qua a me dottore non me ne frega niente io non centro niente con questa roba qua iniziate a comprendere non c'era empatia e quindi vuol dire che io non ho empatia neanche con quello che ho dentro quindi non vedo loro non vedo me non sento la loro sofferenza non sento me quindi io nego tutto ciò che è metafisico non iniziate a percepire quindi il metafisico che cos'è è oggettivamente cercare di entrare in risonanza con i nostri antenati quando c'è molta difficoltà è perché probabilmente come direbbe un mio amico toscano c'è tanta roba c'erano tanti conflitti ok c'erano molti problemi e quindi in automatico come possiamo dire c'è 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 tanto da risolvere quindi sono tante emozioni negative che mi mettono strutturalmente in blocco iniziate a vedervi ok ecco perché molte volte mi capita anche di fare delle costellazioni delle mimesi io adesso le chiamo mimesi e noto che la persona quando mettiamo in scena le problematiche della sua famiglia magari la prima queste persone rimangono come indifferenti ho avuto tantissime occasioni dove il paziente mi guardava e dice dottore ma questa roba qua a me non dice niente e secondo me come dire è roba che non mi appartiene non la riconoscevano non entravano in sintonia io dicevo non importa tu vedila gli facevo fare il rito che devono fare e andavamo poi magari questa persona mi ritornava mesi dopo anche un anno dopo e nelle mimesi successive queste in realtà entravano in un'empatia ferocissima nelle costellazioni che vedivano dopo si mettevano a piangere si mettevano le mani nei capelli cioè erano molto più empatici quindi cosa vuol dire che io le avevo portati avanti vi è chiaro? cioè man mano io toglievo le problematiche loro diventavano più metafisici quindi è giusto che noi siamo sia fisici che metafisici e in un articolo che avevo scritto per una rivista un po' di tempo fa ho fatto l'esempio dei due bambini che vanno al giardino dove c'è un giardino c'è una panchina e c'è la loro madre seduta sulla panchina e dall'altra parte del giardino c'è una siepe quindi c'è il bambino che gioca intorno alla mamma il mondo fisico e c'è il bambino che invece è attratto per andare a vedere cosa c'è dietro la siepe è il metafisico qual è il bambino giusto entrambi è chiaro in realtà tutti dovremmo essere dei personaggi affascinati dalla fisica ma al tempo stesso affascinati dalla metafisica una cosa carina di un libro combinazione proprio intitolato scienza etica di Bertrand Russell Russell riportava questo filosofo storico inglese riportava tutta una serie di lavori facendo dei paragoni tra gli scienziati diciamo gli uomini di studio del 1500 1600 1700 fino a arrivare ai nostri moderni e lui è carino perché nella sua credo che non l'abbia fatto apposta però era un resoconto e aveva descritto anche dei personaggi che ho studiato anch'io quindi Galileo Newton Keplero Copernico dove io non sapevo di alcune sfaccettature di questi personaggi e lui descriveva che questi personaggi erano ferocissimamente attratti dall'astrologia ma erano attratti anche dall'astronomia ma erano ferocissimamente attratti anche dall'astronomia cioè astrologia sì cioè erano attratti da tutti e due mondi sia quello fisico che quello metafisico per cui lo stesso Russell era arrivato alla conclusione che questi personaggi avevano creato ciò che eravano creato perché erano in equilibrio tra queste due forze non erano che ne so come molti di noi conosciamo questi politici giornalisti estremamente svegatati in una parte o estremamente svegatati in un'altra parte loro erano attirati da entrambe le componenti quindi all'università parlavano di cose concrete eccetera e poi alla notte studiavano di tutto e di più vi è chiaro? quindi lo stesso Newton era uno studioso anche di spagiria cioè studiava di tutto quest'uomo e probabilmente la sua capacità intuitiva percettiva di determinate realtà del mondo che stavano intorno erano grazie alla sua capacità di essere nel metafisico provate a immaginare il concetto di un campo di forza se tu sei oggettivo come fai a intuire un campo di forza? è intuire la gravità adesso per noi la gravità è oggettiva però lui doveva doveva percepirla doveva percepirla come un oggetto concreto solido quantizzabile è misurabile cioè non è facile provate a misurare una cosa che non vedi non sai cos'è non sai dov'è non l'hai mai isolata ok sempre in quell'articolo io parlavo del concetto della fisica quantistica che sta misurando il concetto di materia oscura e l'hanno misurata e tu però se vai da un fisico gli chiedi che cos'è la materia oscura lui ti dice non lo so perché se no non sarebbe oscura sappiamo che c'è ma non sappiamo che cos'è e la forza oscura ti direbbe la stessa cosa e tu chiedi ma nell'universo cos'è la cosa più presente guarda la materia è meno del 5% tutto il resto è materia e forza oscura è terribile questa roba qui e quindi guarda caso ritorniamo a quell'uomo primitivo che 30.000 anni fa ti diceva questa roba il 5% della realtà che sta intorno a me è mio padre e mia madre ma i miei antenati sono molto di più di mio padre e mia madre ovviamente è una materia oscura perché io non la vedrò mai però so che c'è perché c'è oggettivamente perché io questa roba qua ce l'ho dentro ed è quella che mi fa vivere o mi fa anche vivere è una forza è una forza che i miei genitori hanno ereditato e a volte i miei nonni hanno ereditato da qualcosa quindi è una forza che ci entra dentro è un campo è un campo di forza che ci porta avanti voi parlate con quelli della metafiche che studiano la fisica quantistica di oggigiorno ti dicono quella roba lì ti dicono tutte le molecole contengono le informazioni di tutto ciò che è arrivato prima quindi con molta probabilità riuscissimo mai a decodificare queste forze qualunque molecola sulla faccia della terra ci può descrivere dal Big Bang in avanti e probabilmente anche dal Big Bang indietro perché comunque quelle informazioni ce l'hanno vi è chiaro? solo che più andiamo indietro più diventa una cosa onirica percettiva cioè entriamo nel mondo degli eroi della religione della teologia allora è più giusto come parla un teologo o è più giusto come parla uno scienziato pratico oggettivo in realtà sono entrambe le cose l'equilibrio è probabilmente riuscire a percepire comprendere che entrambe queste forze descrivono il mondo e se voi ci state a pensare come la stessa questione tra la fisica meccanica e la fisica quantistica ritorniamo di nuovo nello stesso oggetto la fisica meccanica e la fisica giustamente di tutto ciò che è concreto la fisica quantistica che cos'è la fisica quantistica la fisica quantistica è quella che sta cercando di calcolare e misurare la metafisica cioè un fisico quantistico sono dei poveracci che carta e penna o carta e matita stanno cercando di calcolare misurare quantizzare ciò che in realtà i cinque sensi non percepiscono iniziate a comprendere cioè loro stanno andando nel mondo dell'impercettibile quindi molte scoperte della fisica attuale moderna derivano tutte da percezioni non sono cose oggettive mi sono inciampato in un quanto energetico no l'hanno percepito che quell'altro gli è caduta la mela in testa Einstein non gli è caduto un quanto in testa non gli è caduto l'elastico dello spazio dell'universo lui l'ha intuito è chiaro sapete la storia di Einstein lui per non bisogna raccontarlo ai figli perché se no non va bene lui c'è stato un anno non era un grande studente lui c'è stato un anno che il padre era un ingegnere costruiva bobine elettriche all'epoca c'era l'inizio dello studio dell'utilizzo dei famosi campi elettromagnetici quindi il padre era un ingegnere che si era specializzato nel costruire bobine elettriche per creare calamite elettriche per creare centrali elettriche quindi dinamo per produrre elettricità e il padre aveva avuto una commissione combinazione in Italia ed era dovuto venire per circa un anno a lavorare in Italia e lui ovviamente si era preso un anno sabbatico dalla scuola e aveva seguito il padre per aiutarlo quindi lui passava tutte le sere a montare queste bobine se non che lui era rimasto affascinato da questo concetto del campo elettromagnetico ha detto e se fosse la stessa cosa anche in cielo così in terra così in cielo dagli ogni nostro pane quotidiano e allora lui ha iniziato a immaginare il cielo come se fosse un'immensa bobina elettromagnetica e la tacaia come si dice in primo in tese ci ha azzeccato vi è chiaro? ma questo perché si è inciampato nel campo elettromagnetico terrestre o perché ha iniziato a intuire un qualcosa cioè è andato nella metafisica vi è chiaro? quindi perché la fisica quantistica zoppica tantissimo con coloro che sono delle persone iperconcrete per questo meccanismo qua perché oggi noi stiamo scoprendo la forza dell'energia quindi cosa vuol dire? che noi fino al 1700 circa eravamo delle persone iperoggettive cioè abbiamo studiato la materia dal diciamo dal 1800 cioè con l'avvento del campi elettromagnetici noi abbiamo iniziato a percepire che non c'è solo la materia ma c'è anche un campo energetico che è percettivo l'energia è un qualcosa che puoi percepire ma non puoi concretizzare la fisica moderna sta cercando per vie traverse per supposizioni per calcoli matematici sta cercando di arrivare a questa cosa qui vi è chiaro? che probabilmente è anche diciamo ci è andata anche bene perché il fatto che mangiamo tutti stiamo tutti bene eccetera eccetera abbiamo più tempo per sollazzarci probabilmente non solo più per pensare cose oggettive concrete ma possiamo anche perdere parte della nostra energia per andare nel mondo dell'astrazione cioè come dire possiamo sollazzarci e studiare altre cose questa è la teologia e la religione quindi noi andiamo nel misticismo ci sono tanti parroci che studiano la legge fisica e ci sono tanti scienziati cioè tanti uomini che hanno studiato per anni la fisica quantistica e sono poi diventati degli uomini di fede perché sono come entrati in contatto di questi campi energetici ok io da medico un po' provocatorio cosa vi direi che loro in realtà sono diventati teologici eccetera perché per studiare il campo di percezione in realtà devi andare qua lo capite quindi per diventare un iperteologo è perché sono andato troppo di là per rimanere con i piedi bilanciati io devo bilanciarmi qua in mezzo vi è chiaro quindi l'equilibrio è il bambino che sa divertirsi giocando vicino alla panchina dove è seduta la mamma ma è anche il bambino che non è poi così super spaventato dalla siepe e poi alla fine riesce ad andare lo stesso anche dietro la siepe quindi è il bambino che non ti dice il mondo reale è solo intorno a mia madre ma non ti dice neanche il mondo reale è solo quello che c'è dietro la siepe lui ti dice tutto mondo lo iniziate a comprendere quindi io devo arrivare a concludere che il mondo è tutto vi è chiaro quindi più di una volta mi è capitato che aiutando questi personaggi a mettere in equilibrio questo loro hanno cambiato il modo in cui mi descrivevano il concetto di Dio il concetto di religione quindi sono arrivato alla conclusione guarda caso quello che ti dice il Corano che se io descrivo Dio o descrivo la religione antropomorfizzandola vuol dire che dietro c'è un conflitto cioè io descrivo Dio come una persona un maschio con la barba lunga vestito di bianco magro ciccione eccetera lo antropomorfizzi vuol dire che dietro c'è una problematica se io parlo delle istituzioni religiosi come un qualcosa di positivo negativo c'è di nuovo l'antropomorfizzo con dei concetti troppo concreti troppo basici vuol dire che qui dietro c'è di nuovo un problema se io invece vado come fa come ti indica il Corano cioè entri in una fase neutrale cioè come dire che a queste forze non puoi dare un'immagine ok non idolatrare immagini tu rimani nel mistico quindi quando noi siamo in equilibrio quando noi questo campo energetico lo descriviamo come un campo che non è né positivo né negativo è lui è e fa il suo mestiere e non lo antropomorfizziamo quindi ho iniziato a comprendere che più una persona mi mette dei volti o delle immagini in tutto ciò che diventa metafisico e quindi mi commenta il metafisico come se fosse una persona in realtà vuol dire che lì dietro ci sono dei conflitti più la persona va nella metafisica e non la commenta né positiva né negativa cioè la vive e la respira per ciò che essa è più vuol dire che dietro non ci sono conflitti iniziate a percepirli questo spiega anche il perché nella storia c'è stato tutto un cambiamento dell'evoluzione delle religioni l'evoluzione delle religioni erano determinate dall'evoluzione della struttura familiare in cui queste persone vivevano man mano noi siamo passati da raccoglitori e cacciatori siamo passati poi a strutture contadine stanziali abbiamo iniziato a modificare il benessere non il benessere del nostro modo di vivere noi automaticamente cosa è andato a modificarsi si è andato a modificare lo stato di conflittualità tra le varie persone questi sono diminuiti di intensità e quindi le nostre religioni da religioni iperaggressive sono diventate man mano nel tempo religioni sempre più permissive perché giustamente mio nonno essendo un uomo che stava bene mangiava aveva il lavoro la pensione il servizio sociale aveva il dopo lavoro eccetera eccetera era un uomo tranquillo e non ha rotto più di tanto le scatole né alla nonna né a mia madre ma neanche a mio padre e quindi quando tu mi chiedi com'è Dio ma lo vedo così una cosa da tranquilli vi è chiaro? se tu vai a chiedere un uomo che hai vissuto duemila tremila quattromila anni fa non ti descrive Dio in quella maniera perché magari il suo il nonno ci ha anche provato con sua mamma ha messo incinta anche le sorelle era un uomo magari aggressivo quello che giustamente doveva cacciare ha fatto una vitaccia terribile e quello quando arrivava a casa non era rosa e fiori e quindi lui come ti descriveva Dio ti descrivevano degli dei potenti rabbiosi passionali e quindi ti antropomorfizzava molto il Dio perché perché su quel Dio chi proiettava? proiettava la conflittualità della sua famiglia quindi ogni Dio diventava un parente diventava la nonna la zia la cugina il padre il cugino il fratello lo iniziate a percepire man mano la società è cambiata sono cambiati i simboli ma allora Dio si è evoluto anche lui no Dio non si è evoluto cioè quello è un campo di forza vi è chiaro? però sono cambiate le nostre immagini ma anche il modo in cui noi immaginiamo la teologia prendiamo la fisica quantistica la fisica quantistica poteva esistere tre, quattro, cinque secoli fa no perché noi giustamente non avevamo emotivamente il rapporto con questo pensare in modo astratto perché la nostra società non era quella era una società molto più aggressiva quindi noi non riuscivamo ad arrivare lì la materia oscura era pericolosa noi adesso parliamo della materia oscura ma non la descriviamo come una pericolosa ma la descriviamo come un elemento fondamentale ma nel simbolismo che cos'è la materia oscura noi potessimo andare ancora a parlare con Hellinger gli chiedessimo padre delle costituzioni che cos'è la materia oscura lui si smetterebbe a ridere dice il segreto di famiglia da parte di tuo padre e tua madre ok che probabilmente è il 60, 70, 80% del tuo modo di vivere è oscuro c'è però devi scendere a compromessi con lui ma iniziate a comprendere quindi man mano noi ci siamo evoluti o meglio man mano le strutture sociali si sono morbidite man mano noi siamo diventati più morbidi ma se voi guardate anche la struttura sociale dei vari paesi dei vari continenti la trovate cioè nei popoli dove ci sono delle strutture sociali molto rigide hanno strutture religiose estremamente rigide perché? perché in quella struttura religiosa teologica loro stanno esprimendo i rapporti che ci sono stati qui dentro simbolicamente loro sono lì quindi io in base a come una persona mi descrive il suo mondo oggettivo o mi descrive il suo mondo onirico metafisico io so già lui dove è andato a mettersi perché giustamente entra dentro dei simboli iniziate a vederli adesso voi provate e poi magari andare a casa iniziate a ragionare iniziate a vedere tutta l'evoluzione dell'immagine teologica fisica e metafisica che voi avete avuto nella vostra vita provate a iniziare a visualizzare i vostri genitori nel rapporto con i loro genitori provate a andare a visualizzare la vita che hanno fatto i vostri nonni e iniziate a andarli a vedere nella loro evoluzione nel vostro modo di pensare e nel nostro modo di pensare è chiaro io ho provato non tante volte andare a cimentare sia mio padre che mia madre tutti questi vari personaggi e mi rendevo conto che mio padre e mia madre parlavano dei nonni parlavano del rapporto che c'erano tra i loro nonni e i loro genitori mi parlavano di strutture familiare però me le descrivevano in maniera onirica parlando di come è fatto l'universo per cui a quella roba lì ci credo ma no sono tutte stottavanade quella roba lì sì quella roba lì esiste quello non esiste però in realtà poi quando io mettevo gli schemi cioè mettevo i personaggi di riferimento effettivamente il nonno era presente il nonno era assente combinazione quello lì l'altro era come si dice orfano di padre è stato cresciuto dal figlio cioè del fratello e vedevi tutti i vari personaggi e mi ricordo anche una persona che lui negava il concetto di Dio diceva secondo me Dio in realtà che noi ci siamo non ci siamo non ne frega niente l'elemento fondamentale che mette in piedi e tiene in piedi tutto il sistema è Gesù Cristo e lui era un sconvinto assertore del concetto di Gesù Cristo poi quando sono andato ad analizzare la sua famiglia praticamente che cosa è stato fatto che cosa è successo che uno dei suoi due genitori era orfano di padre ed era stato cresciuto dal fratello maggiore che l'aveva fatto da padre quindi quando lui parlava di Gesù Cristo parlava del simbolo religioso di Gesù Cristo o parlava di questo zio che si era sacrificato aveva rinunciato alla propria vita e aveva vissuto per crescere i fratelli è un simbolo però lui in realtà parlava di quello quando io glielo ho fatto notare lui è rimasto sconvolto dice è vero dottore allora a quel punto io cosa ho fatto l'ho concretizzato ho detto boh fai delle meditazioni sul nonno che è morto e fai delle meditazioni su questo zio come dire per un po' di sere ringrazia questo personaggio lui piano piano ha iniziato a cambiare tutta una serie di suoi comportamenti ma non solo ha iniziato a modificare anche il suo modo di essere padre con i suoi figli perché? perché lui aveva il simbolo del fratello che cresce i figli ma non aveva il simbolo del padre che cresce i figli non iniziate a percepire? era sbilanciato cioè c'erano delle informazioni che aveva ma non le vedeva non le percepiva andando a lavorare su quel simbolo lui piano piano ha iniziato a modificare il rapporto che lui aveva con i suoi figli aspetta no mi scusi volevo chiederle ma perché lui con i propri figli che tipo di rapporto aveva? come si cioè avendo avuto un fratello papà il papà assente lui che cosa come agiva da fratello maggiore agiva da fratello maggiore la cosa carina che da me veniva anche sua figlia che aveva dei seri problemi nel trovare il lavoro non aveva la forza fisica di gestire il lavoro guarda a caso da quando lui ha iniziato a modificare tutta sta roba qua la figlia ha trovato il lavoro e ha trovato anche la forza fisica per affrontare il lavoro perché il lavoro magari lo trovava però lavorava sei mesi un anno poi si licenziava lei diceva sto male sto male sto male c'è da impazzire qua c'è il mobbing qua c'è il stress i lavori sono tutti stressati dipende come le affronti e lei non riusciva a portare a termine niente poi un bel momento è venuto il suo padre per un problema di sciatica tutta una cosa che non c'entrava assolutamente nulla con tutta sta roba qui poi parlando ragionando andando a costruire tutto l'albero genealogico della sua famiglia è venuto fuori quella roba lì io ovviamente era l'epoca in cui raccoglievo dati mi divertivo raccontami lui addio ho iniziato a fare tutta una serie di panigirici e mi ha descritto quella roba lì nel momento in cui io gli ho fatto fare delle immagini sullo zio cioè come dire lascialo morire in pace quello che ha fatto ho fatto ma vammi a recuperare il nonno perché in realtà è lui se non c'era lui tuo papà e tuo fratello cioè tuo zio non c'era nel momento in cui lui ha riportato quello lui ha recuperato che cosa l'archetipo padre perché lui era convinto nella sua immagine metafisica che il padre non ha nessun ruolo il dio padre non ha ruolo fai che cavolo vuoi ma il dio padre non viene non ti vede non sa neanche che c'è lui è sempre a giocare a bocce lui è andato al bar e gioca a bocce a carte al bar e beve quindi dio padre non esiste chi ci salva tutti è Gesù è il fratello però Gesù è un figlio quindi è nostro fratello non è il nostro padre lo capite? lui non attivando quell'archetipo non ha fatto il padre con sua figlia e non facendo ma tutto involontaria perché poi era un buon uomo cioè era un uomo buono poi questo qui cioè potevi fargli tutte le critiche che volevi ma non quella però lui non avendo questa forza questo campo di forza cioè non avendo un rapporto empatico con questo campo di forza non è riuscito a trasmetterlo empaticamente alla figlia e quindi la figlia guarda caso era in blocco su tutti i campi dello young cioè il rapporto padre che sono sesso vita di relazione e lavoro punto infatti non riusciva ad avere un straccio di storia che avesse due righe non aveva forza fisica e psichica di sopportare lo stress e non riusciva a tenere il lavoro punto era inchiodata su quel senso nel momento in cui lui ha recuperato quello lei si è youngizzata e quindi nel mondo maschile che è il mondo del lavoro è diventata più potente iniziate a percepire questo aspetto qui però è un concetto metafisico vai sul metafisico perché sono campi di forza quindi Einstein mi direbbe no guarda vai lì monti le bobine inizia a percepire il campo di forza e ti alleni monti i bobine e un bel momento vedi il campo di forza di tuo padre e tua madre vedi il campo di forza delle nonni dei nonni vi è chiaro? è una percezione è un aspetto metafisico per cui ho tante persone che mi riunisce e dicono dottore ma cosa c'entra cioè io adesso devo dire che onoro mio padre cosa c'entra con il mondo del lavoro e dico ma tu non ti preoccupare tu prova a farlo e poi vediamo e molti di questi personaggi poi giustamente ma arrivano e qualcosa cambia perché entrano in un campo di forza ok? che l'uomo primitivo lo conosceva molto bene quindi lui come faceva a onorare questi campi di forza ha creato tanti simboli teologici quanti erano i campi di forza all'interno del quale lui doveva convivere quindi lui aveva iniziato a comprendere che doveva avere un rapporto empatico con l'ambiente in cui vive e quindi l'ambiente yin quindi che cos'è l'ambiente yin? la forza a produrre cioè a generare figli e la forza a creare una famiglia una stirpe se voi andate a leggervi la Bibbia adesso partono i commenti positivi e negativi che noi possiamo fare della Bibbia io me la sono andata anche a leggere come libro storico cioè come parlavano 4.000 anni fa le persone quindi sono andato anche a cercare all'interno della Bibbia i simboli archetipali comportamentali più antichi che noi possiamo avere testimoniano e il massimo della benedicenza che un uomo 4.000 anni fa poteva fare a un altro e vai e crea una stirpe è chiaro? quello era il massimo della beneficenza che poteva il massimo della maledizione tu non avrai stirpe cioè come dire morto tu muore tutto dall'altra parte invece è dire no vai e crea una stirpe cioè da dopo di te nascerà un popolo per cui tu produrrai tanti figli questi figli produrranno altri figli eccetera eccetera per cui magari tra 100 200 anni sarete magari un paese di 500 anime e crei una stirpe è chiaro? questo è il massimo quello è il rapporto con la madre quello è il rapporto col campo di forza femminile è chiaro? quindi chi non pensa in funzione dei propri figli chi non pensa in funzione di un futuro come diceva questa giornalista che riportava le interviste di questi ecologisti loro hanno visto che tutto sommato questi personaggi sono tutti dei misogeni cioè sono tutti personaggi che non portano rispetto a ciò che è il mondo femminile perché non ragionano da genitori questo è il rapporto col mondo femminile per cui anch'io ero arrivato alla conclusione che esistono due modi di fare sesso c'è il sesso maschile e il sesso femminile non maschio femminile attenzione sono dei campi di forza io posso essere maschio che fa sesso femminile cioè faccio sesso per fare figli sono un maschio che fa sesso maschile faccio sesso per divertirmi sono i due aspetti poi posso essere una femmina la stessa cosa faccio sesso yin cioè femminile campo di forza femminile per fare figli ho cinque figli ho fatto l'amore sei volte oppure dall'altra parte è il sesso per divertirmi l'ho fatto milioni di volte e ho un figlio o magari non neanche un figlio vi è chiaro? sono i due mondi capite bene che il meglio è stare in mezzo quando voglio faccio un figlio sto attenta però quando voglio faccio un figlio però so anche divertirmi che poi sei maschio sei femmina che te ne frega quindi vai sia nel metafisico sesso per divertirmi perché non è concreto sia il sesso concreto fisico per fare un figlio perché il figlio lo indichi il piacere dove hai il piacere che ne so io dove hai il piacere vola passa entra esce lo iniziate a comprendere sono dei campi di forza il nostro equilibrio è la somma algebrica dei due è più importante uno è più importante l'altro è pericoloso dire più importante uno è più importante l'altro devono essere importanti entrambi come giustamente diceva Aristotele anche se Aristotele stesso dava un po' di più alla metafisica per lui diceva la metafisica è la scienza che studia la conoscenza o diciamo l'attributo della materia quindi è la metafisica quasi che crea la fisica o che dà un senso la fisica e se ci pensate e ragionate secondo a questa immagine effettivamente è vero se questa è la metafisica e questa è la fisica chi è che ha creato la fisica la metafisica perché vai nel mondo degli antenati quindi se io esisto devo ringraziare dalla prima ameba fino a me perché tu entri in un campo estremamente metafisico quindi noi più andiamo indietro più andiamo nei riti e nei miti vi è chiaro? ma non sono dei giochi di fantasia sono delle percezioni sono delle percezioni concrete che effettivamente esistono sono dei campi di forza e chi studia giustamente la fisica quantistica te lo dice è il campo di forza che induce i legami chimici non è il legame chimico che crea il campo di forza e quindi sono quei campi che andranno a strutturare tutta la mia fisionomia esterna e la mia struttura chimica interna quindi va da sé che avere o non avere coscienza e integrarmi nella fisica e metafisica come dire che noi siamo da una parte l'aspetto fisico oggettivo che mi tocco ma dall'altra parte c'è tutto un aspetto metafisico di me perché se è vero che la materia oscura è il 70% di ciò che vediamo vuol dire che intorno a me c'è un 70% di Andrea Penna che noi non vediamo ma dobbiamo percepire quello è il mio stato di coscienza e la stessa cosa è il campo di forza quindi io posso alzare un tavolo da 100 kg ma quello è solo il 5% della mia forza poi c'è una forza oscura che alzerebbe 8 volte quel peso è chiaro che è una percezione che c'è e non c'è ok o meglio c'è ma è una percezione quella quantità o meglio non la quantità perché la quantità c'è sempre come dire io che nego o non nego la forza oscura quella c'è comunque ragazzi non è che se io nego la forza oscura quella non c'è per fortuna che c'è lo stesso perché se no dal Big Bang in poi i pianeti non si sarebbero formati lei c'è sempre e il fatto che il rapporto è empatico che noi abbiamo con loro quindi non è dire questo esiste questo non esiste ci credo non ci credo ma il rapporto è empatico e quella famosa intervista su YouTube la trovate un'intervista sulle problematiche religiose che avevano fatto a Jung ed è bellissimo perché poi non dura neanche una mezz'oretta circa e alla fine Jung lì era già abbastanza avanti negli anni era oltre ottantenne e il giornalista le fa varie domande e una di queste domande è se lui crede a Dio cioè crede appunto negli aspetti teologici in questi campi c'è queste forze eccetera eccetera e lo stesso Jung è bellissimo perché lui era semiseduto guarda per un attimo per terra rimane proprio qualche secondo in meditazione poi si tira su guarda dritto negli occhi il giornalista e dice io non credo io so lui aveva fatto ovviamente 50 anni di studi sul concetto della sincronicità la sincronicità è la metafisica è l'informazione intrinseca delle cose la sincronicità quindi l'unione delle informazioni che la materia contiene e quindi era stato bellissimo questa sua risposta lui dice io non posso dire credo non credo in Dio io so è maliquidato quindi io ho 50 anni che studio questa cosa ho visto centinaia di migliaia di pazienti quindi ho raccolto tonnellate di date e quindi io so che queste cose esistano non è più una questione credo non credo lo percepite questo è il rapporto empatico massimo è come se tu chiedessi a uno ma secondo te tuo bici non è esistito ma guarda io non l'ho mai visto non l'ho mai toccato non ci ho mai parlato insieme non sono mai andato in pizzeria insieme a lui non ho mai fatto un giro in bici con lui per me non esiste è tutta una bufala vi è chiaro? questo è il fisico lo posso indicare con un dito il bisnonno no quindi non esiste che cazzo c'è ma credere mica l'home fatia vi è chiaro? solo uno stupido crederebbe a queste robe qua qui invece è diverso Jung ti avrebbe detto io non è che credo non credo nell'esistenza mio bisnonno io so che mio bisnonno è esistito non mi metto in discussione vi è chiaro? questa è la metafisica io so che esistono queste cose perché sono oggettive sono quantizzabili come ti direbbe un fisico nucleare sapete come hanno calcolato la materia oscura la materia oscura l'hanno calcolata perché loro hanno iniziato a mettere tutti i vari campi di forza dentro un computer per vedere dal Big Bang cioè da questa polvere stellare la formazione dei pianeti e hanno visto che mettendo la materia che loro conoscevano in realtà non c'era abbastanza gravità per creare l'aggregazione cioè rimaneva tutto polvere cioè questi non si aggregavano e quindi hanno iniziato a dire al computer ma forse c'è molta più materia forse c'è molta più materia quando sono arrivati da Jung nel 70-80% allora ha iniziato a formarsi qualcosa è fighissimo per cui loro ci siamo noi ci siamo arrivati per astrazione è proprio il massimo della metafisica vi è chiaro questi qua hanno dovuto inventarsi un qualcosa perché se no i conti non tornavano quindi quando io parlo di determinate cose se voglio capire il perché ognuno di noi descrive Dio in modo diverso devi aggiungere materia fino a che lo comprendi come hanno fatto questi fisici dici guarda che con quelle quattro informazioni che hai tu non ce la fai non riesci a capire perché lo descrivi diversamente rispetto alle persone che ti stanno a fianco se tu lo scrivi diversamente è perché qui dietro c'è qualcosa che è una forza oscura oscura non perché è negativa è oscura perché per adesso non ne hai coscienza ma nel momento in cui la vedi è oggettiva è chiaro? quindi io sono arrivato alla conclusione che il rapporto con la scienza è il rapporto che noi abbiamo con i nostri genitori il rapporto con la religione qualunque essa sia era il rapporto che c'era tra i nostri genitori e i suoi genitori o tra i nostri nonni e i nostri bisnonni questo è il simbolismo vi è tutto chiaro? avete delle domande? dei dubbi? aspetta non ho visto ti posso dare il microfono per un problema di registrazione volevo fare questa domanda diamo per scontato una famiglia di due tre quattro figli attuali arrivano come dice lei dallo stesso padre dalla stessa madre stessi genitori per cui hanno vissuto tutti entrambi questa storia forse sono il prodotto di quello che diceva lei dei blocchi o non blocchi che i suoi antenati hanno creato perché poi all'interno di questa famiglia di questi figli tutti hanno a volte sì a volte no io mia esperienza conoscenti non conoscenti visioni diverse rispetto al lavoro alla vita cioè comportamenti completamente diversi nonostante arrivino da un stesso percorso per cui se c'erano dei blocchi li hanno vissuti sono la fine di questa cosa ecco questo non riesco sì è una domanda che mi sono fatto anch'io perché sovente me la sono trovata ma anche analizzando nella mia struttura familiare tra me e mio fratello eramo esattamente uno opposto all'altro la prima cosa che mi era ribasta appresa rispetto tra me e mio fratello che mio fratello era la fotocopia di mio padre aveva la stessa struttura fisica di mio padre ma soprattutto aveva la stessa struttura fisica del padre di mio padre io quando sono nato piano piano ho iniziato avere la stessa fisionomia del padre di mia madre ok quindi cosa vuol dire che probabilmente eravamo due figli con due ruoli completamente diversi quindi ciò che per mio fratello era Dio era probabilmente il nonno paterno ciò che per me era Dio era il nonno materno cioè avevamo due immagini completamente diverse poi analizzando ho iniziato a vedere che ci sono anche altri aspetti ad esempio ci può essere una problematica attinente all'epoca storica in cui ho figlio provate a immaginare io ho un figlio all'età di 17-20 anni ho un figlio all'età di 20-25 anni ho un figlio intorno ai 30 o un figlio intorno ai 40 sono immagini completamente diverse quindi l'imprinting che tu dai a questi ragazzi è completamente diverso facciamo ancora un altro esempio perché l'ho trovato un sacco di volte io magari sono primo genito io magari sono secondo genito io magari ho avuto un problema con un fratello o una sorella che era nata prima o dopo di me quando tu fai dei figli giustamente ne fai magari più di uno giustamente tu proietterai il rapporto con questi tuoi vari fratelli o sorelle anche sui figli questo l'ho visto un sacco di volte adesso è un argomento di una conferenza che andremo a affrontare un'altra volta però io ho visto che perché il nostro cervello ragiona per archetipi che i nostri fratelli e sorelle i fratelli e le sorelle voi provate a farvi la domanda il cervello li decodifica come genitori o come figli figli no? quindi quando noi nasciamo decodifichiamo padre nostro padre madre nostra madre i fratelli sono figli quindi con chi confonderemo queste persone con i nostri figli vi è chiaro? quindi il rapporto tra noi e i nostri figli li puoi risolvere se vai a lavorare sui tuoi fratelli e sorelle lo iniziate a vedere cioè se mi arriva una persona che mi dice io ho un dialogo terribile con mio figlio vuol dire che lui non ha un rapporto empatico con chi? col figlio o con i suoi fratelli con i suoi fratelli al limite non ha un rapporto empatico non c'era un rapporto empatico tra i suoi genitori e i loro fratelli per cui e vai sempre più nel mistico perché vai sempre più nel metafisico più ti allontani più lui ti dice una percezione secondo me mio fratello sembra buono ma lo percepisco una persona negativa stai parlando di tuo figlio stai parlando di tuo fratello stai parlando dello zio stai parlando del prozio poi quando vai a fare tutta la scaletta genealogica della famiglia trovi che c'è stato effettivamente un fratello che ha fregato tutti gli altri perché ha fatto un falso nel testamento si è portato via una casa ha contaminato un territorio eccetera eccetera quindi diventa un'informazione metafisica quando la vai a vedere la risolvi quindi ho trovato che la differenza tra i vari figli dipende da molte componenti quindi non soltanto dalla diversità genetica che noi diamo a questi ragazzi ma dall'epoca storica in cui tu lo concepisci puoi immaginare che tu concepisci tuo figlio in un momento in cui magari avevi un fratello che era tossicodipendente e quindi tu eri sotto stress eri una madre o un genitore o un padre ferocemente sotto stress oppure concepisci un figlio dove sei in realtà in pace o se concepisci un figlio in un periodo in cui sei disoccupato concepisci un figlio in cui stai bene e mi ricordo una volta un neonato che mi arrivò e feci a questo avrei avuto 7-8 mesi aveva tutta una serie di ezemi disturbi eccetera gli avevo fatto anche il test dei fiori di Bach dice ma sì gli faccio un test dei fiori di Bach e facendogli il test dei fiori di Bach era venuto fuori paura del futuro paura della situazione economica commerciale e ho detto ma un bambino di 6 mesi che putta ladro che cazzo in un bel momento ho chiesto io non c'avevo neanche pensato ho guardato la madre mi dice ma guardi mi fa strano mi testa questa roba vedo questa qua che sbianca fa e sa durante la gravidanza mi hanno licenziato è un bestiale però l'informazione era nel bambino magari sto poveraccio io poi non l'ho mai più visti ma magari questo qua è un bambino che poi diventato adulto a 30-40 anni andrà dall'omeopata all'omeopata e gli chiederà quali sono le sue paure è la paura di rimanere senza soldi quindi si fa tanto quella presa e perché combinazione mia mamma è stata licenziata durante la gravidanza ingiustamente si è appellata agli sindacati di sud e giù però non l'avevano più riassunto e questo ha perso il lavoro quindi da una parte era felice aveva il figlio però dall'altra parte dice come arrivo a fine mese vi è chiaro quindi le interconnessioni che noi possiamo avere sono tantissime il momento storico il rapporto tra te tuo padre e tua madre perché se effettivamente è vera questo concetto qua quando mia madre partorisce i vari figli dipende anche molto il rapporto che lei in quel momento aveva con i nonni con i suoi genitori quindi si assommano le varie situazioni come dire se io adesso facessi un figlio sicuramente sarebbe molto diverso da ciò che è mia figlia perché giustamente sono passati 25 anni quindi io comunque sono cambiato non so se il meglio o il peggio però sicuramente sono cambiato ci sarebbe un mostro terribile con molti più problemi perché possono solo aumentare i problemi vi è chiaro sono riuscito un po' poi c'era una mano nel buio nell'energia oscura visto che il tema della serata era la teologia si parlava di simbolismi quando si parla del simbolismo del padre del figlio più o meno è chiaro quando si parla di spirito santo invece qual è la simbologia che sottende lo spirito santo io mi sono anche fatto la mia idea però voglio sentire la sua sì ho fatto anch'io un po' di ragionamenti su quello anche perché l'agopuntore lavorando si sente? sì lavorando sul pentagramma dei cinque elementi di agopuntura ho lavorato molto il concetto del segno della croce nel nome del padre il figlio dello spirito santo padre e figlio sono facilmente intuibili lo spirito santo ho iniziato subito a intendere che probabilmente era il rapporto con la madre cioè lo spirito santo diventa la madre o possiamo anche dire forzando un po' il segreto della madre ok e quindi ragionando dago puntore ero arrivato a comprendere che noi abbiamo l'elemento fuoco poi abbiamo l'elemento terra e poi abbiamo l'elemento acqua e io le ho messi in linea nel nome del padre del figlio e dello spirito santo perché ho iniziato a comprendere che ci sono malattie primarie e malattie secondarie cioè che vengono dopo che un altro organo sia malato gli organi che si ammalano per primi sono sempre o il pancreas perché è la ghiandola fondamentale della terra o il rene che è l'elemento fondamentale dell'acqua o l'intestino tenue il cuore che sono gli elementi fondamentali l'organo fondamentale dell'intestino tenue quando c'è un eccesso di madre scarichi sul metallo colite quando c'è un eccesso di padre scarichi sul legno fegato vi è chiaro? sono vent'anni di agopuntura ok questo è il circolo e questo ho visto che giustamente è un simbolo religioso che i cinesi in parte c'erano arrivati loro non lo disegnano è così il pentagramma lo fanno in cerchio non lo disegnano in questa maniera questa è una forzatura che ho fatto io per cui quando c'è un eccesso di padre scarichi sul fegato ma se non lavori anche sulla figura del padre il fegato non lo guarisci se tu hai un paziente con una colite una asma una paura di morire terribile se però non lo compensi anche sull'elemento terra non ce la fai se non metti in equilibrio suo padre e sua madre il fuoco rappresenta me stesso quindi il figlio guarda caso l'intestino tene rappresenta la felicità quindi se io non sto bene nell'immagine di mio padre e mia madre non sarò mai un uomo felice perché non sono integrato che è il concetto dell'onora padre e madre quando ti dicono che una persona ti arriva e ti dice mi sembra di essere colui che si auto boicotta cioè tutto quello che tocco faccio va sempre tutto negativo in realtà poi quando gli fai fare dei giochini simbolici vedi che lui praticamente è in guerra tavica con uno dei due quindi auto boicotta la famosa frase di quella preghiera benedetto il frutto del seno tuo quindi cosa vuol dire che se io non onoro questa doppia componente non onoro l'unione che c'è tra questi due elementi automaticamente io mi boicotto perché io da dove derivo derivo dalla fusione di quei due elementi e quindi il comandamento onora padre e madre sono dei simboli quindi se io non onoro la terra da cui parto e non onoro l'energia solare da cui mi arriva quindi la fusione tra l'energia solare e l'energia del campo elettromagnetico terrestre io non entro in sintonia con questi due elementi io non sono armonico quindi non sarò mai più di tanto felice cioè mi sforzo a essere felice ma non sono integrato nel sistema non so se più o meno anche tu sei arrivato a quella conclusione ok c'erano altre domande è un colpo io dico sempre che è un colpo d'immagine infatti dico molti miei pazienti quando vengono da me io dico sempre ragione non ragiona sulle cose perché un bel momento ti arriverà il colpo d'occhio e allora a quel punto lo vedi e quando tu vedi quella roba lì tu la risolvi come dire io ho passato 40 anni della mia vita a dire tipo il film il giorni lo stecchino cioè tra me e mio fratello no mio fratello non mi assomiglia per niente fino a che un bel momento iniziano a comprendere che eravamo perfettamente uguali quindi le sue fobie erano le mie le mie fobie erano le sue le mie sicurezze erano le sue sicurezze il contrario la cosa bestiale è che quando io ho preso coscienza a parte tutti i cambiamenti eccetera eccetera la vita mi si è aperta davanti ma non è che si è aperta perché la vita è cambiata ma è perché io sono entrato in empatia con tutto quello che mi girava intorno perché se io non mi vedo nei miei simili cioè nei miei consanguini vuol dire che io non ho coscienza quindi dal mio punto di vista avere coscienza di se stessi vuol dire che io guardo mio fratello dico capri siamo proprio uguali guardo mia madre madonna siamo proprio uguali guardo mio padre eh già siamo proprio uguali ah è lo zio mi anche lo zio capri allora tu hai tanta coscienza vi è chiaro? mi piace il vino come il nonno alcolizzato eh sì 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 vi è chiaro? allora tu inizi a prendere coscienza vi è chiaro? lì è lo stato cioè che tu non sei più in lotta con tutti questi campi di forza non neghi più la metafisica quindi non vai davanti uno e dici ma no non vede che io sono Bruno mio fratello è biondo io c'ho gli occhi cioè cosa c'entro io con mio fratello? vi è chiaro? non entrano in risonanza quindi entrare in empatia con me stesso e utilizzare i miei consanguinei per vedermi non solo perché bisogna poi provocarsi io ho passato la vita a provocarmi e insomma qualcosa mi ha mi ha aiutato ma non solo poi ti faccio ma non solo cercare la similitudine tra me e i miei consanguini adesso vi provoco un po' insomma per rovinarvi un po' la serata il sonno sto noto devo trovare anche la similitudine con le persone con cui sono uscito e sto uscendo perché? come dice il buon penna Dio li fa poi si cercano che quello è il libero arbitrio lui non li accoppia non ti forza però noi e questo ce l'ha spiegato il neurone specchio di Rizzolatti i nostri neurone specchio vedono solo ciò che gli assomiglia se no non li chiamerebbero specchio li avrebbero chiamati in un'altra maniera neuroneopatici invece no li hanno chiamati specchio perché loro vedono solo ciò che mi assomiglia quindi io sono attratto solo dalle persone che hanno il mio medesimo campo emotivo per cui io mi attraggo questi personaggi quindi chi è in risonanza con la madre esce con persone in risonanza con la madre chi è in risonanza col padre con il risonanza del padre via questo quindi se io odio mia madre sarò sempre attratto da donne che odiano la madre se io odio mio fratello sarò attratto da donne che odiano il fratello è chiaro quindi come faccio a capirmi guardo le persone con cui esco e devo cercare la similitudine sempre un campo di odio e una presa di coscienza mi veniva da fare un parallelo rispetto a certe caratteristiche caratteriali che ci attribuiamo per esempio ci consideriamo magari ipersensibili ma poi c'è una difficoltà di comunicazione non c'è empatia e perché non siamo in equilibrio sempre su quello di su quell'aspetto fisico cioè metafisica e fisica mi chiedevo allora per aumentare questa cosa io faccio fare dei giochi abbastanza semplici ritorniamo allo schema perché è un gioco cioè una volta che voi l'avete capito poi è un gioco banale se io faccio fatica a comunicare col mondo femminile o con tutto ciò che è femmina vuol dire che tra mia madre e sua madre c'era un buon sangue no faccio un'immagine semplice ogni tanto la sera mi metto lì e visualizzo mia madre e mia nonna e li abbraccio è chiaro? entro in empatia empirica metafisica vera e propria con loro sovente poi queste persone mi dicono ma mia madre ha sofferto per colpa della nonna appunto a maggior ragione abbracciala sogni tuo padre con sua madre e li abbracci tutte e due e li guardi e gli dici quella famosa frase ora capisco quanto avete sofferto nella vostra infanzia e allora tu provi a ragionare ma quanto io vedo la sofferenza nell'infanzia di mio padre e mia madre quanto io percepisco o non percepisco la solitudine che magari loro hanno vissuto il vuoto affettivo quanto io percepisco o no il vuoto affettivo dei nonni io mi ricordo quando iniziai a lavorare su tutta Starbacoa mia figlia era proprio piccolina piccolina e io all'epoca sempre da bravo agopuntore studiavo la fisionomia del corpo cioè del viso e la struttura del loro fisico e quindi dei vari organi collegati agli occhi al naso alla bocca e ovviamente all'aspetto psicoanalitico diciamo in funzione dell'organo e di quello che avevo vissuto per cui iniziai a ragionare che da una certa fisionomia che aveva la madre di mio padre ha detto è già è vero la nonna soffriva di attacchi di panico quindi lei deve aver sofferto qualcosa di particolare come ho iniziato a pensare a tutta sta roba qua in base al taglio degli occhi del naso questa zona del naso dice già nonna deve aver avuto paura probabilmente anche di morire mentre pensavo quello mi era venuto in mente che quando noi eravamo bambini i miei nonni abitavano nella zona di Asti la nonna era sempre terrorizzata quando noi andavamo in giro nei boschi dei pozzi dei pozzi che i vari contadini facevano di raccolta dell'acqua piovana ed era terrorizzata di colpo mi venne un flash gribbio detto la nonna c'è caduta dentro da bambina e ha rischiato di morire oltretutto all'epoca quando un bambino faceva una marachella non poteva neanche raccontarla a casa perché veniva ancora picchiata quindi io cosa ho fatto ho fatto un sogno onirico ho iniziato a sognare questa bambina che cadeva dentro un pozzo e ho sognato io uomo adulto di 40 anni che andavo lì e l'aiutavo a uscire dal pozzo mi toglievo la giacca la coprivo la prendevo in braccio stai tranquillo adesso ti porto a casa una settimana dopo mia figlia ha fatto pertosse tu dici ma cosa c'entra e no c'entra perché se voi avete studiato Amer scoprite che la pertosse è la fase di guarigione della paura di morire è chiaro? però se per me quella era la nonna per mia figlia era la bisnonna e probabilmente la nonna era un fricciolino più o meno dell'età di mia figlia poco più grande poco più piccola quindi Jung cosa mi direbbe Andrea una sincronicità tu sei entrato in un campo di forza ti sono arrivate le informazioni banale io lo so so vi è chiaro? cioè i conti ti tornano ecco perché molte volte quando vedo questi personaggi che superano e creano queste immagini oniriche apparentemente metafisiche forzatamente astratte i loro figli i loro nipoti cambiano perché passa l'informazione sincronica come direbbe Jung cioè loro automaticamente entrano in risonanza ma è un campo di forza non è oggettivo non lo puoi toccare è un campo di forza vi è chiaro? immediatamente succede qualcosa ci sono ad esempio degli studi bellissimi sul campo di forza della gravità un argomento che poi andremo a affrontare sul problema dell'inquinamento la terra è controbilanciata da due raggi i raggi solari e i raggi cosmici in base alla spinta di uno dell'altro cambia la temperatura della terra ma non solo cambia lo stato di coesione magnetica della crosta terrestre ergo compaiono più o meno terremoti e compaiono più o meno volcani quindi cosa vuol dire? che magari in una in una nebulosa lontana magari i milioni di anni luce noi è successo magari i milioni di anni fa un qualcosa per cui questa ha lanciato un campo elettromagnetico di materiale ionizzante che dopo milioni di anni è arrivato a noi e combinazione arriva proprio adesso arriva adesso e questa roba arriva adesso e giustamente c'è la somma algebrica tra il campo creato dalla nostra stella più il campo creato da queste altre stelle che stanno intorno a noi è qualcosa a cui cambia tu ti guardi intorno e dici ma io non vedo niente sì perché giustamente è una cosa metafisica è una fisica che non è oggettiva è un qualcosa che entra nella fisica quantistica però è quella roba lì quindi se io vado a cambiare l'immagine di mia nonna è lo stesso principio del campo elettromagnetico della terra se io vado a cambiare l'immagine della nonna o aiuto come io dico nelle mimisi a morire in pace la nonna in automatico entra in risonanza sincronica una modificazione di mia madre entra in automatico una modificazione sincronica dentro di me entra automaticamente un'immagine sincronica nei miei discendenti cioè io creo una nuova stirpe è chiaro anche il concetto che noi avevamo dei figli chiaro che se io accumulo problematiche i miei figli saranno sempre più problematici se io per mia fortuna ho la tendenza a cercare di risolvere le mie problematiche quindi i figli probabilmente quelli a seguire saranno meno tesi meno problematici sono riuscito a rispondere le prime domande iniziate a comprendere questa cosa qui sono dei campi di forza io ci sono arrivato quando ho iniziato a osservare tutta sta roba qua come dei campi di informazione ok quando noi scriviamo energia uguale massa la velocità della luce al quadrato voi togliete il concetto di energia e mettete invece il concetto di informazione quindi la massa cambia in base all'informazione che diventa di nuovo l'etica quindi c'è il mondo oggettivo e poi c'è l'etica più l'etica è neutrale più tu sei vicino empaticamente a ciò che è realmente il campo di forza quindi Dio non è né buono né cattivo è un campo di forza non puoi dire la gravità è buona o cattiva la gravità è la gravità ti stampi contro un muro cosa vuoi farci è quello però è un campo di forza non è buono o cattivo è come tu te lo gestisci te lo vivi e te lo percepisci che cosa è quella roba lì quello lì è il vissuto il vissuto emotivo che ognuno di noi ha avuto quindi l'interpretazione che noi diamo alla fisica e alla metafisica è in parte al nostro vissuto è in parte al vissuto che ci arriva da dietro se il campo metafisico io lo vivo come un aspetto ferocissimamente negativo vuol dire che dietro di me è successo qualcosa e io amorevolmente cosa faccio vado ad aiutare questi miei antenati a morire in pace punto e quindi cambieranno tutte le mie immagini percettive quindi quando tu vedi che la tua capacità percettiva cambia o è difficile è perché c'è qualcuno in questo campo metafisico che va aiutato adesso tu prova ad andare a casa ti inizi a vedere ti fai tutto l'albero della tua famiglia e li vai piano piano a vedere e tu vedrai che quelli che io chiamo la sindrome della madonnina o la sindrome del Gesù Cristo cioè che ci sono o dei figli maschi o delle figlie femmine che hanno dovuto farsi carico di tutta una serie di situazioni i cosiddetti segreti di famiglia e li vai come dire ad aiutare cioè li preghi un po' per loro li aiuti gli mandi delle immagini positive e vedi che cosa cambia in te e intorno a te anche questo è un simbolismo ci sono arrivato magari ci arresteranno tutti dopo che io ve l'ho spiegato però limite fate come ha fatto San Pietro ma lo conoscete voi il dottor Pendo no no la terza volta che negate ci crede ma probabilmente almeno 2000 anni fa è andata così io giustamente ho sempre notato che in tutte le religioni questa è teologia pura in tutte le religioni non c'è mai la donna che muore per salvare il gruppo c'è sempre sono tutti simboli maschili ok quindi c'è Gesù Cristo non c'è Gesù Gesà Cristo non c'è Gesà Cristo c'è Gesù Cristo e quindi noi vediamo sempre che c'è un padre e una madre dopodiché noi possiamo avere un figlio maschio e una figlia femmina per poter capire per poter capire tutta questa roba qua capire il movimento del perché qui qualcuno deve pagare noi dobbiamo mettere un'immagine molto importante che Hellinger ci ha lavorato per anni che è il concetto di segreto di famiglia cioè Hellinger ha capito che qui dietro c'era un segreto di famiglia c'era un qualcosa che ha creato a livello metafisico uno stato di tensione come dice il buon dottor Penna tutti i figli vivono in funzione della mamma quindi chi si fa carico del segreto di famiglia della madre? I figli ma più il maschio o la femmina? Il maschio ok? Quindi il figlio maschio è il Gesù Cristo chi si fa carico di aiutare la madre a crescere il figlio? Problematico? La figlia femmina che cos'è che ci hanno insegnato che la madonnina è vergine o non è più tanto vergine è vergine qui noi abbiamo due femmine questa e questa quale delle due è la vergine? Una figlia quindi quando noi in realtà parliamo della madonnina vergine non parliamo della mamma di Gesù ma parliamo della sorella di Gesù che ha dedicato la vita al fratello problematico e non ha avuto famiglia non si è mai sposata è rimasta vergine questa struttura familiare la trovate in tutte le famiglie dove c'è un figlio problematico un tossico dipendente chi è il tossico dipendente? Gesù muore per la madre e si è fatto carico del problema della madre dove c'è un tossico c'è sempre una sorella che vive in funzione del fratello tossico e questa qua se tu vai e chiede ti piace fare sesso forse per me lo faccio per dovere non le interessa l'ho iniziata a capire quindi anche qua sono dei simboli ma se questa persona se tu gli vai a chiedere oggettivamente non te lo sa dire te lo dice con una percezione che è metafisica quindi come fai tu a toglierla da lì? devi andare nel metafisico quindi il segreto di famiglia è contemporaneo ai genitori e dopo i genitori o prima dei genitori è prima quindi vai molto nella metafisica vai ancora più indietro iniziate a vedere ragazzi questa roba qua con le costellazioni di Ellinger sistemiche di Ellinger o adesso con le mimesi come adesso io le chiamo è oggettivo perché tu metti in scena un'emozione e l'emozione la vedi fa il suo mestiere e vedi che questa emozione si sposta e si appiccica uno si appiccica all'altro ed è una persona concreta è oggettiva e magari il paziente ti guarda e dice ma guarda lui assomiglia tanto a mio nonno alcolizzato vi è chiaro? e magari quello che rappresenta quella cosa fa così con la mano quindi come dire che cerca un'altra presenza allora gli ne metti un'altra e piano piano inizi a costruire metafisicamente tutto quello che c'è dietro noi aiutiamo tutte queste persone a morire in pace lui smette di bucarsi questa inizia a fare l'amore dice ma sa dottore ho iniziato a provare il piacere sa io per la prima volta madonna ho provato l'orgasmo e già per forza perché finalmente lei è entrata in risonanza con un campo di forza si è permessa di essere ciò che lei è iniziate a percepire e questa è la fisica e metafisica se noi non accettiamo tutti questi aspetti noi non riusciamo questi pazienti sono persone che noi non sappiamo cosa fare li riempi di psicofarmaci ma non riesci ad entrare nella loro memoria non riesci a cambiare il loro destino quindi quasi viene da dirci ma allora il destino di ognuno di noi dipende dalla fisica cioè del rapporto che abbiamo con i nostri genitori o da tutto ciò che è metafisico cioè arriva da prima e l'uomo di Neandertal ti dice guarda c'è la materia però l'energia è molto più grande della materia tu chiedi a Einstein ma è vero tutta sta puttanata guarda io ho visto che l'energia è uguale alla massa ma devi moltiplicarla per un numero praticamente infinito che è la velocità della luce ma devi ancora moltiplicarla al quadrato ci stafava quindi la terra è piccola risponde all'energia quindi aveva ragione l'uomo di Neandertal ha detto tu vedi quella roba lì ma in realtà c'è una montagna di roba che ci ne avraste ed è quella che condiziona come noi siamo ci struttura ci dà forma iniziate a comprendere questo è il concetto e questo è un esempio etiologia lo iniziate a vedere? anche qui l'ultimo esempio poi vi non vi massacro più se voi osservate ad esempio i parroci e le suore è sempre un simbolo ormai ci sparano perché poi è tutto registrato quindi non possiamo neanche più dire cioè no no non è vero non l'ho detto allora di qui c'è il parroco e di qua c'è la suora etiologia cioè se voi andate a chiedere in chiesa eccetera eccetera il parroco ma lo stesso papa cosa vi dice? pregate per voi pregate per noi o pregate per la chiesa no? cosa ti dice il parroco il papa? pregate per la chiesa per me o per la chiesa quindi vuol dire che lui è un figlio maschio che vive in funzione della madre e la religione cattolica cosa ti dice? che le suore sono sposate col padre sono sposate col padre infatti mi ricordo che Ellinger aveva fatto una volta una battuta era stato fichissimo poi era scoppiato una delle poche volte che lo vedevi ridere sul palco dice voi immaginate una suora che fa l'amore fa cornuto Dio sono messo a ridere oltretutto sapete che lui è un parroco e lui dice io l'ho sempre trovata terribile questa cosa e lui fino a 60 anni era parroco cioè come se io fossi un parroco e all'età che sono io adesso lascio i voti quindi lui ci ha sempre creduto fino a 60 anni poi a un bel momento ha iniziato a mettere in dubbio tutto ma lui non è che ha messo in dubbio tutto lui ha iniziato a entrare in pace con i genitori dei suoi genitori infatti nei suoi libri lo dice quindi nel momento in cui lui ha in un certo senso visto il padre violento di sua madre lui è uscito nel momento in cui ha smesso di giudicare la madre di sua madre lui è uscito non aveva più bisogno di essere un parroco e ha cambiato il modo di fare costellazione ha cambiato il modo di studiare ha cambiato il modo di scrivere ha cambiato il modo di essere lo ho iniziato a comprendere e lui stesso poi ha avuto anche l'accortezza di parlarne io sono ben contento che ho lavorato con lui perché mi ha dato poi anche degli spunti di riflessione e mi sono costruito tutta la mia teoria vi è chiaro? ok ah no ancora una domanda dai l'ultima poi andiamo eh sì tu hai parlato di persone cioè di genitori che sono concreti ma i bambini abbandonati o adottati che non hanno questa la concretezza cioè non hanno l'esempio dei genitori sì probabilmente loro hanno questo aspetto molto più importante della metafisica però in ogni caso anche loro sono strutturati lì dentro perché comunque per loro la concretezza diventa l'istituto dove sono vissuti diventa diventa il mondo che hanno intorno comunque quella è sempre la scienza ok infatti nei bambini adottati è molto importante recuperare l'immagine dei suoi genitori perché se no loro hanno un rapporto poi col sesso col lavoro con l'ambiente familiare con i loro figli che è disastroso è quello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti